Io non ho paura della Serie B, io ho paura dei falsi juventini perché ce ne stanno tanti, specialmente sui social. Ma prima che approfondiamo questo argomento pericolosissimo, vi invito come sempre per chi non l'ha fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate e attivate la campanellina così non ci perderemo mai un video e rimaniamo sempre live. Poi mi raccomando, per gli amanti del vero calcio scaricate questa bellissima app tutta italiana numero 10, serie A, calcio femminile, mondiali, calcio mercato e tutte le notizie di calcio che volete. Troverete i link in descrizione in questo video. Lecce d'incendimento di madame e messia, signore e signori, ma i signori quelli veri e quelli copi, bianconiore della vecchia signora, rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Ebbene sì, non ho paura delle serie B, non ho paura della radiazione, perché in B già ci sono stato e la Juve l'ho amata ancora di più. Ma mi fanno ribrezzo quei Juventini che si spacciano per Juventini, ma sono dei falsi Juventini, che pur di attirare qualche like, pur di attirare qualche visualizzazione giornalmente, fanno terrorismo, fanno terrorismo sulla Juve. Si chiama terrorismo psicologico, se lo dico bene. È la verità. Vi dovete solo vergognare. Ma voi siete Juventini che pur di acchiappare qualche like, vi vendete, la Juve si difende. Anche quando a torto si difende, perché per ora ci stanno attaccando tutti e io la mia Juve la difendo. Perché ho visto tifosi con le palle difendere le proprie squadre quando sono stati prescritti e tuttora dicono mai stati in B, mai stati in B, mai stati in B triplete, che sono prescritti, si difendono. Noi Juventini invece no. Ho un bellissimo problema. Io personalmente la Juve la sto difendendo. Sul campo si può criticare, bene, ma io critico il gioco. Ma quando si tratta di situazioni come queste, coltello fredente e difendo la mia Juventus, non me ne frega niente della giustizia. Io sono qui per difendere i miei colori, io sono qui per difendere quello che da piccolo mi sono affezionato. A questi colori, a questa maglia. Voi vi vendete. Voi vi vendete e vi dovete vergognare. Addirittura, ieri mi sono rilassato. Ho dovuto fare l'albero di Natale in famiglia. C'è perfino il video. Non ho voluto parlare. Di niente. Mi volevo rilassare. In serata cosa ho fatto? Poi vado a leggere qualche commento in questi video di terrorismo. Tanti commenti dove apprezzano questi che parlano, che dicono di essere Juventini. Commenti bravo, bravissimi, siete competenti. Poi cosa vado a scoprire? Che chi commenta non sono neanche Juventini. Ma vi rendete conto che venite elogiati dagli avversari. Fate riempire la pancia agli avversari. Vi dovete vergognare. Questo non è essere Juventini. Se poi qualcuno dice veramente che la Juve non ha i veri tifosi, è la verità. Perché il vero tifoso, come dica e ripeto sempre, è quello che quando piove è accanto alla Juve. Quando nevica è accanto alla Juve. Quando fa freddo è accanto alla Juve. Quando fa caldo è accanto alla Juve. Quando è a 2000 km è sempre accanto alla Juve. E quelli poi, mi viene da dirlo, sono i veri tifosi. Per questo, come sempre dico, occhio a parlare sempre male di questa benedetta curva. Perché la curva bisogna soltanto scappellarsi. Perché il vero tifoso è quello quando difende a prescindere da quello che succede. Punto e basta. Il vero tifoso non aspetta né like né commenti positivi dagli avversari. Io mi aspetto che la Juve esca fuori da questo patatrac. Che abbia sbagliato, che abbia indovinato, non me ne frega niente. Non me ne frega niente a me. Io non sono qui per darvi le notizie, sono qui per commentare le notizie. Ma a maggior ragione sono qui per difendere i miei colori. Per difendere la mia Juventus. Per difendere oggi che è stato attaccato, che sia l'ex presidente, l'ex vice, non me ne frega. Se siamo in guerra li devo difendere. Ci saranno momenti diversi per prendermi delle soddisfazioni. Tanto ormai loro hanno dato loro dimissioni. La Juve ad oggi è una società libera che si sta riformando e ricostruendo. Ma non accetto da voi juventini che per acchiappare like, per acchiappare qualche visualizzazione vi vendete. Non l'accetto assolutamente. È la cosa più sbagliata che ci sia. Ma almeno fate la prova ogni tanto. Fate la prova a venire allo stadio. Ma non allo stadio a vedere Juventus e Real Madrid. Dovete fare la prova, ma seriamente. Se poi avete il coraggio a venire a vedere Juventus e Rimini. Ma vi aspetto però. Voglio vedere con quale faccia venite. Perché oggi siete tutti dotti. Parlate di calcio. Già sapete qual è la sentenza della vostra squadra. Parlate di Serie B. La Serie B se lo toccate con le mani. Voi non sapete neanche cos'è. Perché siete un pugno di ignorante. Ve lo devo dire. È questa la verità. È questa la verità. Perché la Serie B lo sa. Chi ha seguito la Juve in Serie B. Chi non ha perso una partita. Chi è rimasto lì. a gridare e a cantare. Per questi colori e per questa Juventus. Voi invece no. Voi vi mettete tiki 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 tiki. Sulla tastiera. E fate tutti gli intelligenti. Dotti. E di questi ce ne siete tanti. Sai come diciamo in siciliano. Cosa risente? Scingi denti. Sai cosa vuol dire? Che chi si è risentito. Stringi i denti. E tenga forte. Ovviamente. Come si dice. Chi ha peccato scagli la prima pietra. Chi non ha peccato. Faccia sonni tranquilli. Perché ovviamente. I veri Juventini. I veri Juventini. Non è che devono essere giudicati. I veri Juventini. Sono quelli che dentro. Hanno l'anima della Juve. Che non pensano a sputtanarla. Per acchiappare laicche. Assolutamente no. Questo mettetelo bene in testa. E se oggi mi sto sfogando così. Se questa mattina mi sono svegliato. Arrabbiato. E per questo motivo. Perché non accetto questi Juventini. Questi Juventini che hanno fatto anni. Anni pubblicamente. Di offendere. E straoffendere presidente. Società. Allenatore. E tutto. Non va bene sui social. Lo volete fare. Lo volete vendire bene. Si dice sempre che i panni sporchi si lavano in casa. Io ve lo dico chiaramente. Io sono onesto. Io non è che sono stato mai d'accordo negli ultimi anni. Col lavoro che ha fatto il nostro ex presidente. Assolutamente no. E lo posso dire tranquillamente. I miei amici. Chi mi conosce bene nel privato. Loro sanno. Sanno che io non sono d'accordo per niente. Col lavoro che ha fatto negli ultimi cinque anni questo presidente. Lo sappiamo tutti. Di quello che ha con... Perché non ha chiuso un ciclo bene. Il ciclo ha chiuso malissimo. Lo so. Lo so che ha fatto male. Ha distrutto quello che ha costruito. Ha distrutto una curva. Una tiposeria. Che era lì a cantare sempre per la Juve. Ma oggi. Io sono a difendere tutti. Io oggi non sono qui per buttare merda. Assolutamente no. Perché oggi sono qui per difendere la mia Juventus. Perché la Juve mi ha dato tanti anni di soddisfazione. E oggi che la Juve è contro tutti. Io non sono contro la Juve. Io sono con la Juve. La Juve oggi. Bisogna difenderla. Che abbia torto ragione. Che like c'è. Che like non ce n'è. Non me ne frega niente. Che il video viene visualizzato. O meno io me ne frego. Io me ne frego. Io vedo solo la Juve. Ma questi Juventini. Che si fingono Juventini. Per acchiappare i bisogni del like. Io li voglio vedere. Quando tutto sarà sistemato. A cosa si attaccheranno. Lo so io a cosa vi attaccate. Vi attaccate a questo. Signori miei. Questa mattina. Con sdegno. Chiudo questo video così. Che sono ancora arrabbiato. Ancora arrabbiato. Signori miei. Vi voglio bene. Vi mando un glorioso abbraccio a tutti. Fino alla fine. Forza Juventus. Ma è vero Juventini. E non. Agli acchiappa like. Ho sa benedica a tutti. Io me ne vaio. Juventini si nasce. E lo ripeto. Non ho paura delle serie B. Ho paura dei falsi Juventini.